I gadget tech da acquistare su Amazon sono la mia rubrica preferita. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video che è oramai un appuntamento fisso dove vi mostro cosa ha portato il Corriere e le novità più fighe che il web offre. Ma prima di andare a vedere che cosa c'è dentro questi pacchi, solito momento supporto, lasciate un like se vi vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni e seguitemi su TikTok dove ci sono contenuti molto interessanti in meno di un minuto. Se avete bisogno di assistenza informatica gratuita o più semplicemente di un consiglio scrivetemi su Instagram o tramite il mio canale Telegram di supporto tutti quanti i link li trovate sotto in descrizione. Ma bando alle ciance andiamo ad aprire questi pacchi perché ne ho davvero voglia. Il primo prodotto di cui voglio parlare, come vedete l'involucro non va a celare il contenuti, ma cari amici non è quello che sembra. Infatti vista anche la cover potrebbe far pensare a un tablet, ma non è così cari amici neanche lontanamente, infatti questo qua è un monitor trasportabile. Se avete capito bene questo è un monitor, pesa solo 603 grammi, è fantastico, la sensazione in mano è davvero top, sono un attimo incredulo pure io nel pensare che questo qui sia un monitor. Abbiamo pure la pellicola fantastica da applicare, cari amici, non c'è nessun sistema operativo, questo qua è semplicemente un monitor trasportabile 14 pollici che può essere utilizzato in davvero tantissimi modi. Aspetto estremamente importante si va ad alimentare direttamente dalla porta USB di tipo C, quindi qua abbiamo una porta OTG micro USB, un USB di tipo C, penso sia per l'alimentazione, l'altra penso sia per l'uscita video, una uscita mini HDMI e dall'altra parte abbiamo un comandino per andare a regolare il menu cuffie, uscita cuffie e il tasto di accensione. Lo spessore, cari amici, come potete vedere è abbastanza ridotto, stiamo parlando di un monitor, è 11 mm, peso 603 grammi, diamo da 14 pollici, vi posso garantire che sono davvero estasiato, soprattutto come prima impressione. Per l'alimentazione basta un power bank che riesca ad erogare 10 watt, quindi 5 volte, 2 an per. ma vediamo che cos'altro c'è all'interno della confezione. Allora, cavo HDMI, mini HDMI, molto comodo, ovviamente alimentatore che è un 10 watt, quindi 5 volt, 2 ampere. Poi abbiamo un panno in microfibra, un bigliettino che ci invita a contattare il supporto se abbiamo bisogno di manuale o di altro aiuto, dove ovviamente ci va a ringraziare per la scelta del prodotto manuale, lo dirò fino alla nausea, ci mettiamo un bel QR code, basta e avanza, cinese c'è, vediamo se c'è anche l'italiano, francese c'è, ok, ci sono tutte quante le lingue tranne l'italiano, ma non penso ci possa servire. Abbiamo poi qua un altro cavo USB tipo A, USB di tipo C, e infine abbiamo un cavetto USB di tipo C, USB di tipo C, che verrà utilizzato presumibilmente per l'uscita video. Soluzione full HD, schermo IPS 60Hz, 250 nits, quindi preutilizzo prettamente interno, il rapporto di contrasto è 800 a 1, e l'angolo di visione è di 174 gradi. Abbiamo l'attacco base, in più c'è la possibilità di andarlo a capovolgere l'immagine direttamente dal menu dello schermo. Come potete vedere io ho collegato il mio S22, che ci ha la possibilità di andare a utilizzare lo smartphone come un PC con un sistema operativo grazie a Samsung DeX. Rendendolo di fatto molto utile nelle situazioni più disparate. Immaginiamoci ad esempio di essere in treno, portiamo il nostro monitor, colleghiamo il nostro smartphone che va anche da alimentatore e di conseguenza potremmo andarlo a utilizzare al meglio. Ad esempio vi faccio vedere come vado a riprodurre un video, chiari amici, è davvero fantastico. In più andando a collegare ad esempio questa stick di Realme potremmo andare a trasformare, ovviamente avremo bisogno di questo adattatore da HDMI a mini HDMI, potremmo andare a trasformare il nostro monitor in un vero e proprio Smart TV, potendo usufruire di Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus. A proposito, innanzitutto vi lascio la recensione di questo prodotto che è fantastico, sia qui sopra che sotto in descrizione. Poi, altro aspetto molto importante, se volete acquistare questi abbonamenti, quindi Netflix, Disney Plus o Prime Video o il nuovo Paramount a basso costo, ho fatto diversi video, vi lascio sia qui sopra che sotto in descrizione. Stiamo parlando della piattaforma Gamsco, che è una piattaforma che vado a utilizzare da un sacco di tempo e dove mi trovo veramente molto, ma molto bene. Penso che andrò ad utilizzare questo dispositivo come monitor per la seconda camera, per le riprese dall'alto. A proposito, se avete qualche consiglio da darmi, è veramente molto ben accetto, anche perché, cari amici, vi posso garantire che per le riprese dall'alto, soprattutto con la doppia camera, sto avendo non pochi grattacapi. Prezzo 149€, link sotto in descrizione. Cari amici, è un prodotto veramente da tenere in considerazione, perché è davvero top. Ho preso questo prodotto perché ho deciso di fare delle dirette streaming e avevo bisogno di un microfono cardiode che mi permettesse quindi di eliminare tutti i rumori e i suoni che vengono dietro il microfono, quindi banalmente anche il suono della tastiera. E grazie al supporto in dotazione andasse a eliminare i rumori delle vibrazioni del desktop, andando a migliorare la qualità dell'audio. Partiamo subito da un assunto, cari amici. È un microfono economico. Per 30-40€, a seconda delle offerte, fa il suo sporco lavoro e va benissimo per iniziare, ad esempio, su Twitch e anche per fare il content creator, ad esempio, per quanto riguarda la realizzazione di podcast. Andiamo ad aprirlo insieme. All'interno della confezione troviamo il treppiede per andare a fissare il nostro microfono regolabile con questa gabbia molto flessibile che si adatta al microfono. Microfono che è dalla plastica un po' cheap, qua abbiamo i LED, tra poco li vedremo, e ha una connessione USB di tipo C e poi troviamo il filtro antipop, oltre ovviamente al cavo di alimentazione da una parte USB di tipo A, dall'altra parte USB di tipo C. un manuale, dove è presente l'italiano, fantastico, lo dico sempre, manuali, lasciamoli perdere, per favore, mettiamo un bel QR code. Ma datemi il tempo di montarlo che facciamo una comparativa con l'audio. La plastica è un po' cheap, ma in compenso ha l'illuminazione RGB, che sinceramente adoro. Ricordate, nel gaming i LED aumentano gli FPS e nel microfono aumenta la qualità dell'audio. Scherzi a parte, abbiamo il connettore USB tipo C, che lo rende di fatto compatibile con PC, smartphone, console, insomma veramente molto d'utile. L'audio che state sentendo ora è registrato con questo toner TC30, il filtro antipop fa il suo sporco lavoro, io sto registrando con una distanza dalla fonte sonora, che ovviamente in questo caso è la mia voce, occhiometricamente parliamo di 30 centimetri. Senza senso paragonarlo con il mio ROD, perché siamo in due fasce di prezzo completamente diverso. Ma per iniziare, cari amici, è davvero una buona scelta. All'audio che state ascoltando, ho applicato gli stessi valori in post-produzione, che di solito vado a utilizzare quando registro con il mio microfono della ROD. Link per l'acquisto sotto in descrizione. Io, cari amici, l'ho già ascoltato, non voglio condizionarvi, ma sono rimasto davvero molto soddisfatto. Ricordiamoci che è un dispositivo economico da 30-40 euro. Allora, in questa tipologia di prodotti porterò diverse alternative, perché sempre più spesso mi chiedete di smartwatch economici, infatti mi sa che in questo video ne vedremo ben due. Partiamo da un presupposto, cari amici, con 40-50 euro, miracoli, non se ne possono fare. Reputo il Watch 4, recensione sia qui sopra che sotto in descrizione, è ancora di più il Watch 5, che è un affinamento, uno dei migliori prodotti in commercio, come ovviamente anche la controparte è di Apple, stiamo parlando del top. Ma costano ben altre cifre, quindi se i materiali un po' cheap, qualche traduzione non proprio al top, non sono un problema, e magari un sensore di battito cardiaco non proprio precisissimo, questa tipologia può fare per voi. Proverò questo prodotto, che qui dall'immagine sullo scatolo si vede che è un clone dell'Apple Watch, e se mi andrà a soddisfare ne farò una recensione completa e accurata come al solito. Ma, cari amici, non perdiamoci più in chiacchiere, andiamo ad aprirlo insieme. La cosa che notiamo subito sullo scatolo è che riporta la dicitura NFC, che è già questo, è un valore aggiunto. Stiamo parlando del DT-N01 Ultra. Questa cartaccia, ce la possiamo anche evitare, è un manuale che, come dico sempre, andrei a sostituire con un bel QR code, da una parte è in cinese, dall'altra parte è in inglese. Abbiamo il QR code per andare a scansionare l'applicazione che ci serve. Non è presente, ovviamente, l'italiano. Andiamo a tirare fuori il nostro smartwatch, andiamo a togliere questa pellicola. La sensazione in mano è subito quella di un prodotto economico, ma mi sarei meravigliato del contrario, anche se la cassa è in metallo, non è quindi in plastica, è già questo, è un valore aggiunto. Qua c'è un'altra pellicola, andiamo a rimuoverla. Andiamo a display da 1.86 pollici, batteria da 420 mAh. Sono sincero, tenendolo in mano non mi sembra un prodotto poi così economico. Cioè, ho visto decisamente dispositivi peggiori. Il display è molto grande, anche più grande del mio watch 4, che è da 46 mm, batteria di 420 mAh, ovviamente è certificato IP68. È una cosa che mi è piaciuta davvero tanto, per amici, alla ricarica wireless, che è davvero difficile trovare in dispositivi del genere. Ora, andatemi un attimo, che lo accendo, e vediamo qualche funzionalità. Allora, cari amici, l'ho acceso, si è configurato in pochissimi secondi, l'accensione è stata quasi immediata, era impostato in inglese, sono andato a impostarlo in italiano, ed è fantastico, che con la rotellina possiamo andare a cambiare velocemente i quadranti. Ho visto un sacco di feature anche dell'applicazione, è vero, alcune cose non sono molto curate, ma visto il costo che è davvero molto contenuto, questo smartwatch ha un sacco di funzionalità avanzate. Innanzitutto, ha sia l'altoparlante del microfono, quindi potremo andare a rispondere materialmente alle nostre chiamate. Infatti, ora ad esempio, chiamo dal mio smartphone, e come potete vedere, qui compare. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreta... E possiamo andarla a chiudere. Davvero, cari amici, fantastico, non so quanto sia attendibile, ma dall'applicazione, ora vi faccio vedere, possiamo andare a monitorare i dati del sonno, del cuore e del sangue. Quindi abbiamo monitoraggio del sonno, ossigenazione, calcolo della pressione sanguigna e del battito cardiaco, che sono funzionalità estremamente avanzate. Bisogna vedere l'attendibilità. L'applicazione non è fatta male, ci sono delle traduzioni che andrebbero riviste, ma sì, cari amici, molto probabilmente vi porterò una recensione di questo prodotto, perché ha un basso costo, dà davvero molte feature, e anche qualitativamente, non mi sembra, la solita cinesata da 40-50 euro, anzi, un prodotto decisamente migliore. Link per l'acquisto sotto in descrizione, ma presto, cari amici, sicuramente una recensione e molto probabilmente starò per qualche giorno con due smartwatch al polso. Era da un po' che volevo aprire questo pacco e prima di farlo voglio dirvi una cosa, che l'azienda, stiamo parlando dell'Arctic, è davvero serissima, anche a livello di comunicazione, e visto che le schede video sono tornate a prezzi finalmente umani, soprattutto la fascia bassa e media, che poi la fascia media oramai non esiste più, presto torneremo agli albori, cari amici, e vedremo una nuova configurazione da gaming. Per chi mi segue, dai primi video, sa che il mio canale è nato parlando di PC da gaming, poi ovviamente dovendo acquistare quasi tutto, mi ritrovo a parlare di argomenti come ad esempio i decodere, che non sono argomenti che mi piacciono molto, i PC forse che è il prodotto che mi piace di più, senza ovviamente tralasciare la domotica, che è un altro aspetto che adoro. Mi sto innamorando anche della mobilità sostenibile, quindi vari monopattini, anche se ancora non sono riuscito a farci molta amicizia, però mi rendo conto che in determinate situazioni sono dei prodotti davvero top. Ma non divaghiamo, dicevamo azienda estremamente seria, andiamo ad aprire questo pacchettino, che vi dico subito per amici, va a contenere un dissipatore ad aria, ovviamente RGB perché non esistono PC da gaming senza RGB in quanto si vanno ad aumentare gli FPS, questa cosa la sanno anche i muri, ed è davvero fantastica. Ora, bisogna spendere due parole per questa azienda perché applica delle politiche che mi sono piaciute davvero tanto. Innanzitutto l'azienda va, ed è forse una delle poche se non l'unica, a discernere i dissipatori per prodotti Intel e quelli per prodotti AMD. Di solito io sono abituato a trovare un dissipatore che fondamentalmente può essere utilizzato in tutte quante le piattaforme. Questo qua è solo per l'Intel. Freezer i35, ventola RGB, ha una pasta termica davvero buona, anche se ho visto che da qualche mese è uscito il modello nuovo, ma questo MX-5 l'ho usata più volte e mi ha soddisfatto. Cioè direi una cosa, cari amici, io ancora non so pronunciarmi se l'aspetto di fare una distinzione tra dissipatori Intel e dissipatori AMD è un qualcosa che mi piace. Sì, sicuramente si vanno a evitare lo spreco di molti componenti, la natura ringrazia, però io vi posso garantire che ho utilizzato diversi dissipatori per più tempo su molteplici piattaforme. C'è da dire che probabilmente andando a richiedere l'adattatore, l'azienda ce lo manderà gratuitamente e ci sarà un kit per poter adattare poi questo dissipatore che non penso sia completamente diverso rispetto alla controparte AMD. Ma andiamo un attimino a vederlo più da vicino perché a me è piaciuto tantissimo. Innanzitutto potete vedere l'ampissima zona di dissipazione e un dissipatore ad aria, cari amici, non certo piccolo, ma molto, ma molto imponente. Non ci sono problematiche però per il montaggio delle RAM, questo qua è un aspetto estremamente da non sottovalutare soprattutto per dissipatori ad aria così imponenti. L'azienda, cari amici, dicevamo, è un'azienda estremamente seria, infatti è carbon neutral dal 2011, infatti è un approccio decisamente green, dicevamo prima discorso differenziale AMD e Intel per dissipatori, io più lo tengo in mano più questo dissipatore mi va a piacere e non vedo l'ora di montarlo in una configurazione da gaming, cari amici, perché mi sembra veramente top. Dicevamo, questa azienda è carbon neutral, infatti è andata a realizzare degli involucri molto più compatti, riducendo il consumo del carburante per il trasporto dei propri pacchi via nave del 50%, andando inoltre a ridurre ai minimi termini, per la mia gioia, la manualistica che è completamente assente, infatti c'è un bel QR code, che è la prima azienda alla quale vedo fare una cosa del genere, non c'è il manuale assolutamente, e ti dice, vuoi il manuale, scansionare questo QR code e te lo scarichi secondo la lingua, e secondo me una persona che sa montare un dissipatore del genere saprà anche andare a scansionare questo QR code, infatti qua dentro ci sono tutti gli accessori per il montaggio con la relativa piastra, ma finalmente nessun manuale, quindi non c'è nessun specchio, poi ovviamente stiamo parlando anche di cartone riciclato, all'interno dicevamo troviamo la pasta MX5, a me è precisato tanto, stiamo parlando di 0,8 grammi, che di recente sta studiata all'MX6, che promette pressioni ancora migliori, MX5 che non è conduttiva, né capacitiva, l'ho già utilizzata, è sicuramente un ottimo prodotto, e io ho già visto questo istitutore in funzione, quello che mi ha sorpreso è la sua silenziosità, la ventola infatti ha un cuscinetto a strisciamento idrodinamico, che riesce a combinare efficienza e poca rumorosità, io più ne parlo più me ne innamoro, non è un prodotto da usare sul processore della serie K, ma sembra cucito come un abito sartoriale per un i5 12.400, lo rivedrete presto sul canale, con una configurazione da 1000, 1200, forse 1300 euro, ma io mi vado ad entusiasmare al solo pensiero, che nemici, questo dissipatore. A me piace davvero tanto. Questa azienda, cari amici, produce solo cuffie, un po' in tutte le salse e anche smartwatch, e oggi andremo a vedere entrambe le tipologie, partendo appunto dalle cuffie. Ora, cari amici, parliamoci chiaro, se acquistiamo un prodotto del genere 50 euro, non può neanche essere lontanamente la stessa cosa degli Airpods o delle Galaxy Buds Pro 2, di Samsung, che come al solito sia Apple che Samsung la fanno da padrona. In questo settore la concorrenza è davvero spietata, i prodotti tantissimi, ma queste capsule 3 Pro di Soundbeats hanno delle caratteristiche che di solito si trovano in dispositivi di fascia più alta, ma vediamo insieme cosa troviamo all'interno della confezione. Piccolissimo manuale utente, è presente anche l'italiano, dove ci vengono fondamentalmente date delle informazioni preliminari. Abbiamo le nostre cuffie con la basetta che funziona anche da ricarica, ovviamente abbiamo un connettore USB di tipo C, cuffiette che io devo essere sincero, cari amici, a me sono piaciute tanto, questo contrasto tra il nero e questo color rame mi ha davvero entusiasmato. Sembrano di buona qualità, ovviamente hanno questa pellicola per evitare che vi sia il contatto con l'alimentatore e si vadano a scaricare. Confezione che sembra in plastica, non certo di primissima qualità, ma vi ripeto stiamo parlando di un prodotto che si attesta sempre sui 50-60 euro. Come accessorio ovviamente andremo a trovare il cavo di alimentazione e i tappini per andare ad adattare al meglio le nostre cuffie alle orecchie. Il cavo di alimentazione che è davvero molto ma molto corto, sinceramente quasi lo andrei a evitare di mettere all'interno della confezione perché con nemmeno 30 centimetri non ne vedo molta utilità. E' presente poi un manuale utente dove c'è anche l'italiano. Lo ripeto, fino alla nausea vorrei che questi manuali venissero sostituiti da un bel QR code. Ma vediamo un po' di specifiche di queste cuffiette perché stiamo parlando di feature che su un prodotto ai 50-60 euro, mediamente non c'è. Le nostre cuffiette hanno ben 6 microfoni, troppo da ogni lato che utilizzando la tecnologia Active Noise Cancelling, quindi l'ANC, permettono la soppressione del rumore fino a 43 decibel per avere una chiamata cristallina, andando a eliminare i forti rumori. Queste cuffiette poi hanno il supporto al codec IRS Audio che denota qualità, come denota qualità anche la tecnologia LDAC, che è una delle poche tecnologie che consente di fruire di musica ad alta risoluzione in streaming wireless, quindi feature da cuffie di livello decisamente superiore. Anche per quanto riguarda il gaming abbiamo una bassa latenza, si parla di 70 millisecondi. Altra feature interessante l'ho vista spulciando il sito è la modalità trasparenza che ci permetterà di ascoltare cosa sta succedendo intorno a noi senza andare a rimuovere le cuffie. Quindi, ad esempio, potremmo tranquillamente sentire l'annuncio di una compagnia aerea della metropolitana senza appunto rimuovere. Gli auricolari, ultima chicca, Bluetooth 5.3, è davvero recentissimo, pensate che io nemmeno sapevo che esistesse. Quest'ultima versione era rimasto del 5.2 del mio Galaxy S22. Infatti gli smartphone che vanno a sopportare il Bluetooth 5.3 sono davvero pochissimi. Non vedo l'ora di provarle perché mi sembrano veramente molto ma molto interessanti. Anche se, cari amici, sempre sul sito ho visto come si fa a gestire un po' tutte le funzioni e sembrano un po' macchinose. Infatti abbiamo con un singolo tap regoliamo volume meno e volume più, volume meno cuffia a sinistra, volume più cuffia a destra. Doppio tap, play pausa per entrambe le cuffie. Triplo tap, cuffia a sinistra, attiviamo e disattiviamo la game mode. Cuffia a destra, attiviamo l'assistente vocale che ovviamente può essere impostato. Tap prolungato, andiamo a cuffia a sinistra, traccia precedente, cuffia a destra, traccia successiva. Per vedere se siano veramente erognosi questi comandi, però ci vuole un test più approfondito che come al solito, cari amici, farò. Andrò a provare queste cuffie, non vi nascondo che, visto il consigliato che mi sembra un prodotto di cui parlare, probabilmente li andremo a rivedere qui sul canale. Al solito, link sotto in descrizione per l'acquisto. Come dicevamo, la stessa azienda che abbiamo visto prima, ovvero Soundpeats, produce anche smartwatch economici. Questo Watch 3 su Amazon costa meno di 50 euro e dalle specifiche dovrebbe avere le funzionalità tipiche di questi dispositivi. Quindi monitoraggio del sonno, visualizzazione delle notifiche con le quali non si può interagire, monitoraggio del battito cardiaco e gestione tramite app dove è possibile, ad esempio, andare a cambiare i quadranti. Apriamolo insieme e vediamo quali sono le prime impressioni di questo dispositivo che ovviamente sembra un entry level. Andiamo a rimuovere la pellicola. Allora, la prima cosa che salta subito all'occhio è che è tutto completamente costruito in plastica. Non abbiamo una cassa in alluminio e quindi un dispositivo innanzitutto estremamente leggero e che non dà la sensazione di un prodotto di qualità, ma è pure vero che stiamo parlando di un dispositivo che costa 40-50 euro in promozione forse anche di meno. Vediamo cosa troviamo all'interno della confezione. La donazione, suppongo, sia estremamente standard, ovvero qui troveremo il caricabatterie che non è wireless. Questa cosa denota quando il dispositivo ovviamente sia costruito in economia. Non mi piace poi nemmeno questa fascetta in plastica si poteva utilizzare una fascetta in carta. La dotazione è completata da un manuale dove è presente anche l'italiano, lo dico sempre, forse in questo video l'ho detto 10 milioni di volte, ma lo dirò per l'undicesima. Togliamo questi manuali, non servono proprio a niente, mettiamo un QR code da scansionare per scaricare il manuale. Allora, un minuto che lo inizializzo e sono subito da voi. L'ho inizializzato, cari amici, ho provato un po', le prime impressioni sono quelle di un dispositivo molto basico, dalle traduzioni un po' approssimative, pure la scelta dei quadranti non è ampissima, come potete vedere. e poi va a riportare la dicitura a comporre che non è per niente tradotta bene, ma in realtà quando digitiamo qua su comporre possiamo scegliere. Tra i diversi quadranti non ce ne sono tantissimi, comunque un minimo di personalizzazione c'è. Le opzioni sono quelle tipiche ai dispositivi di questo importo, ovvero abbiamo il monitoraggio dell'attività fisica, il calcolo del battito cardiaco e dell'ossigenazione del sangue. Non possiamo interagire con delle notifiche, ma bensì solo andarle a visualizzare. Proverò anche questo dispositivo e se ne varrà la pena andrò a effettuare una recensione accurata come al solito. Link per l'acquisto, cari amici, sotto in descrizione. Questa azienda, cari amici, la Voltme, produce tutti quanti accessori inerenti alla ricarica, quindi powerbank, carica batteria da muro, oltre dei cavi e fast charge. Andiamo a vedere prima, per prima cosa, il cavo. Stiamo parlando di un cavo Type-C, Type-C, che è in grado di sostenere ben 100 Watt di corrente, quindi è un 5 Ampere, 20 Volt, è un materiale davvero top, che ne va anche a impedire che si vada ad annodare. Questo cavo si va a associare a questo caricabatterie, cari amici, definirlo spettacolare, è davvero un eufemismo. Infatti parliamo di un caricabatterie Revo 140, che ha le certificazioni sia Qualcomm che è Power Delivery, che è in grado appunto di erogare massimo 140 Watt. Andiamo ad aprirlo insieme, così vediamo le specifiche, molto compatto, la prima sensazione tenendolo in mano è davvero top. Vediamo le varie combinazioni, quindi C1 più C2, ovvero le due tipo C, possono erogare massimo 130 Watt, 65 cada una, se collegata da sola la porta USB di tipo C può erogare 100 Watt, collegandola con quella da USB tipo A altri 25 Watt per un totale di 122,5 Watt, stessa cosa per l'altra porta USB tipo C e possiamo collegarle tutte e tre per una potenza massima di 140 Watt, dove la prima porta USB eroga 65 Watt, la seconda 45 Watt, ad esempio possiamo collegarci il S22 Ultra è sempre la porta USB tipo A 21,5 Watt che dire un prodotto molto bello da tenere in mano la qualità c'è e non vedo l'ora di provarlo anzi vi dirò cari amici lo proviamo subito con il mio portatile Dell come dicevamo piena flessibilità infatti è in grado di alimentare ad esempio un notebook tra poco si accenderà qui la nostra spia come potete vedere sta alimentando questo XPS Dell e nel momento in cui vado a collegare anche il mio S22 va in ricarica ultra rapida quindi piena contempatibilità sia con notebook sia con smartphone e abbiamo visto prima quali sono le opzioni di ricarico un dispositivo molto flessibile molto utile che ci permetterà di andare a ricaricare più dispositivi in contemporanea andando a seguire questo schema quindi ad esempio possiamo ricaricare il nostro pc il nostro smartphone e anche eventualmente un altro dispositivo tutti quanti i link li trovate sotto in descrizione ma questa volta cari amici che è un prodotto che vado a provare per la prima volta mi ha soddisfatto e vi devo essere sincero sono veramente contento di questa azienda vi dicevo tutti quanti i link sotto in descrizione bene cari amici il mio video termina qui e se c'è qualche prodotto che vi è piaciuto fatemelo sapere sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al mio canale telegram delle offerte dove posto le migliori promozioni del web se avete bisogno di assistenza informatica gratuita scrivetemi poi su instagram e mi raccomando condividete questo contenuto noi ci vediamo in un prossimo video come sempre con tante novità attivate la campanella per non perdervelo un saluto dal mastro di youtube che ora è anche su tiktok un saluto un saluto un saluto un saluto Grazie a tutti.